Perché il quartiere lo distruggete voi. Aspetta, ho visto tutti i video. Lei ha visto una parte del video, io ho visto la diretta. Il ragazzo stava festeggiando normalmente. Cos'è che è successo? Prende la pistola, che non è una pistola. Però stava sparando alle forze dell'ordine. Non parliamo se è sparando una pistola. Questa è una schiacciacani. Una pistola è una pistola. Non andiamo nello specifico. Stava sparando. Schiaccia il buon senso, lei. Tu ho detto schiaccia maiali, io? Ho fatto schiacciacani. Ascolta, tu cosa sai fare? Cosa sai fare? Io ho tante belle cose. Tipo, ad esempio? Giocare a calcio. Faccio l'influencer. L'influencer non è esattamente un lavoro. Perché non è esattamente un lavoro? Guadagno più di lei. Beato te, questo non c'è dubbio. Perché non è un lavoro se guadagno più di lei? Lei lavora, lei ha studiato, no? Sì. Ha studiato. Anche tu potresti studiare. E prendo una pa... Io faccio quel lavoro perché mi ci sono ritrovato. Va bene. Adesso vado contro di lei perché lei sta attaccando proprio a me. No, no, no. Io non ti sto attaccando. Io ti ho chiesto che lavoro se fai. Io faccio tante altre cose, capito? Beh, allora. Tipo, cioè... artistiche. Io so che fai anche delle serate. Fai delle serate. Cosa fai in queste serate? Per capire. In queste serate basta la mia presenza in queste serate che vengo a salutare i miei fan. Ti seguono sui social e quindi quando tu vai in queste serate... Brava, se metto un post, mettono il post con la mia faccia. La Ferrani lo può fare anche con il mondo lì. Se lui mette la copertina della sua faccia in queste discoteche tutti arrivano perché ti vogliono salutare. Già la discoteca mi contatta ovviamente. Capito? Se voglio fare la mia serata in quella discoteca. Mi contatta e la faccio. Cioè accetto, dipende dal prezzo che mi fanno e la faccio la serata ovviamente. Va bene. Lo faccio anch'io. Sembri un personaggio di Zelig, sei lo specchio di quest'Italia. Sì, ma è un insulto. Oh grazie, mi sta insultando. Io fiduccio a lui. Perché guarda, io pensare che... No, quando si stressa e sta andando dalla sedia... Domani quando sarò anziano il nostro paese sarà amministrato da idioti di questo genere. Ma perché deve essere idiota? Perché parla con un giovane della seconda generazione che da zero ha fatto qualcosina nella sua vita Ma scusami, Diana, un ragazzo... No, allora, dopo mi rispondi. Un ragazzo che viene in televisione e racconta quello che fa... E racconta in modo scemo che lo pagano perché basta lo suo... Ma casmai non è scemo lui che lo racconta, saranno scemi quelli che lo pagano perché mai vedono la sua faccia. Io ritengo che sia un idiota. Comunque, lui è un idiota. Lui ti dice come si mantiene. Perché questi sono i nuovi giovani. Lorova, lavora, fa quel lavoro lì. Ma non è invidioso, lei lo vedo invidioso perché io solo faccio l'influenza. Ma non è invidioso. Guadagno più di un giornalista che sta criticando. Comunque, il problema non è lui. Il problema non è lui. Il problema sono quelli che mettono a suo quadro i quartieri di Milano. E siamo tutti d'accordo. La cosa che io posso solo rimproverare a lui, che ha molta presa su questi ragazzi, è, anziché, è, diciamo così, di non dirgli nulla, di giustificarli. Di dire una balla, e qual è la balla? Dire che quelli mettono a suo quadro il loro quartiere perché non lavorano. Perché noi non viviamo il lavoro. Io non ho sentito niente di questo. Invece noi, questi, non vogliono lavorare. E il loro lavoro è mettere a suo quadro il quartiere. Però scusate. Perché se volessero lavorare a Milano c'è l'Italia. Questo discorso così generico significa zero assoluto. Ma no, non significa zero. Perché vuol dire parlare del nulla perché non stai dicendo cosa succede. Qui abbiamo senz'altro un quartiere difficile. Invece uno che dice che vado là, mi pagano perché è un modello da seguire. Allora.